Ciao, mi avete chiesto un po' di consigli di come snellire le nostre caviglie. Allora, innanzitutto se volete snellire le caviglie, pensate di fare movimenti che possono, tra virgolette, snellirli perché c'è movimento. Allora potete prendere un cuscino, magari mettete un cuscino, ti tiene una gamba sollevata alla volta e tutti questi microassestimenti di mantenerti in equilibrio aiuterà a potenziare la caviglia da una parte e snellirla dall'altra. L'altra cosa che possiamo pensare di fare sono i sollevamenti, così semplicemente su e giù con le caviglie ma vedrai che comunque si stancano molto in fretta, così non esagerare perché non voglio che infiammi le tendini o infiammi i legamenti però comunque sollevamenti è un altro lavoro che possiamo fare per le nostre caviglie. L'altra cosa da fare è di camminare, magari quando sei in casa da solo e devi spazzolarti i denti o devi cucinare o devi, non lo so, passare l'aspirapolvere, cammini sulle punte, ok? Come se stessi camminando come un gatto, ok? Proprio fai passetti sulle punte e provi di piegare le gambe poco a poco e lavorare in squilibrio anche questo permette sempre le caviglie di lavorarsi di più e snelliscono di più. E l'altra cosa che ti devo dire assolutamente, 100% di sì, è il trampolino, ok? Perché il trampolino, quando io sono sul trampolino e spingo sul trampolino lui che cosa sta facendo alle mie, diciamo, caviglie e le genocchie? Uno si sta stabilizzando perché il trampolino stimola fino al 191% di fibra muscolare in più del lavoro a terra e l'altra cosa che sta aiutando a drenare perché proprio il trampolino ogni volta che scende fa una sorta di spinta sul mio ritorno venoso e lenfatico che mi aiuta proprio a drenare le gambe, ok? Così, per migliorare il vostro caviglie, questi sono i miei consigli e mi raccomando continuate a iscrivermi qui su YouTube per altre domande, per altre curiosità e proverò sempre a rispondervi proprio drittamente qui, vi voglio bene, mi raccomando condividete il mio canale se vi piace, iscrivetevi se vi piace e non dimenticate di seguirmi su Instagram Un bacio e su Instagram sono Jill Cooper Super Jump, bacio!